A Snow Shop Tens 2016 a Bardonecchia siamo con Matteo Boffi allo stand di Scott che ci illustra la novità degli scarponi per la stagione 2016-2017. Ciao a tutti, per quest'anno proponiamo il Super Guide che è uno scarpone di derivazione dal nostro stampo Cosmos che è stato sviluppato per aumentare le performance con due piastre di carbonio all'interno dello scafo tale per cui la deformazione dello scarpone diminuisce del 40%. Quindi lo scafo grazie al carbonio non va a abbassare il peso ma va a essere sempre più performante per una migliore trasmissione degli impulsi. Oltre a questo, questo scarpone propone una scarpetta in gore con una membrana appunto in Gore-Tex tale per cui l'umidità del piede tende ad allontanarsi sempre di più dal piede per garantire un piede asciutto. Oltre a questo scarpone una sua versione alleggerita, due ganci, è stato rivisto tutta la parte del gambaletto. Il gambaletto dell'Orbit diventa così un attimino più alto e integrato con un fascione frontale che viene a sua volta agganciato a un gancio tale per cui aprendo il gancio possiamo allentare anche il fascione passando velocemente alla fase di camminata. Ok, per quanto riguarda la pista invece? Per quanto riguarda la pista è il freeride, proponiamo il G1, scarpone di derivazione dal mondo pista ma con una caratteristica importante, quella dello skew walk. Uno skew walk integrato dove il metallo lavora direttamente sul metallo per garantire ancora più stabilità e sicurezza sullo skew walk. Quindi una sensazione di gambale del tutto fermo paragonabile tranquillamente alla performance di uno scarpone senza skew walk. Grazie a tutti.